Due persone con il volto coperto da mascherina chirurgica e occhiali da sole hanno rapinato un commerciante di 38 anni residente a Ravanusa. L'episodio si è verificato mercoledì pomeriggio quando i due, utilizzando un taglierino, si sarebbero introdotte all'interno del deposito di arredi di via Martorana a Campobello di Licata, in provincia di Agrigento, facendosi consegnare 3.000 euro, soldi destinati al pagamento della merce appena scaricata da un corriere. I due uomini, inoltre, prima di andare via avrebbero puntato il taglierino alla gola dell'autista dell'azienda, un barese di 52 anni, sottraendogli 6.000 euro. Presi in totale 9.000 euro, i due sarebbero poi scappati nelle vie limitrofe. L'ipotesi è che in zona sarebbe stato presente un complice, pronto a facilitare la fuga dei due uomini. Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i carabinieri della compagnia di Campobello di Licata, che hanno avviato subito le indagini per la ricerca degli autori della rapina.